Siamo molto soddisfatti perché comunque ci collochiamo come terza forza politica a livello regionale, anche dove ero candidato io, nell'Unionominale alla Camera, nella provincia di Arezzo, siamo sicuramente una forza politica che avrà la sua rilevanza, anche visto i dasi che vengono dal Valdarno dove io tuttora sono portavoce, dove abbiamo raggiunto dei livelli molto vicini a quello che è la media nazionale. Il Movimento 5 Stelle anche nell'Arettino è la terza forza in campo, i risultati nei collegi in cui fa parte la provincia di Arezzo infatti non discostano da quelli nazionali, per quanto riguarda il collegio uninominale Toscana U09, ovvero per il voto alla Camera, il partito di Giuseppe Conte ha conquistato il 10,24%. Quindi noi porteremo adesso avanti tutto il lavoro che abbiamo raccontato in questi giorni di campagna elettorale, cioè di vicinanza verso la cittadinanza, di cercare di superare le disuguaglianze, il reddito di cittadinanza, il super bonus, ma soprattutto il salario minimo sono quello che cercheremo di portare avanti in opposizione ovviamente. Qualche pagina si apre infatti per voi da oggi? Da noi da oggi si apre una nuova pagina, risorniamo all'opposizione, questi evidentemente sono i dati che emergono e quindi penseremo a portare avanti, a sviluppare tutte quelle riforme che abbiamo già iniziato quando eravamo al governo e che cercheremo invece di portare a termine e adesso siamo all'opposizione. Grazie